Siamo soddisfatti questa sera del tavolo del frontalierato che si è riunito con le sigle sindacali, molti amministratori, abbiamo condiviso un percorso unanime, scevro dalle logiche partitiche o di colore politico per portare la nostra voce al governo e urlare che questa tassa riteniamo sia ingiusta per i nostri frontalieri. Quindi quello che faremo, che è messo dal tavolo, ripeto, all'unanimità, è proporre un ordine del giorno a tutti i comuni da condividere, da votare entro la fine di febbraio nei rispettivi consigli comunali, raccoglierli tutti e mandarli al governo. Speriamo che questa azione possa essere efficace, come territorio ci stiamo muovendo tutti insieme, con un moto corale, sperando che veramente si riesca a ottenere il risultato di stralcio di questa norma che riteniamo ingiusta.